E' Natale e Monbaroccio in festa vince la sfida con 30.000 visitatori a corso e nel piccolo borgo medievale nelle 6 giornate dedicate all'evento. Un grande successo oggi qui dalla piazza di Monbaroccio, una cosa mai vista, credo che Monbaroccio abbia, diciamo così, aperto la strada al Natale che non ti aspetti dalla provincia di Peso Rubino veramente col botto. Una proloco veramente efficiente dove vanno i miei ringraziamenti ai più stretti collaboratori, a tutti i volontari che stanno lavorando in tutte le varie location e che dire, Monbaroccio veramente grande. La proloco è riuscita a portare finalmente Monbaroccio in Italia e anche forse all'estero. La manifestazione è stata quindi di grande richiamo grazie al caratteristico mercatino all'interno delle casette in legno e all'incantevole nevicata artificiale. Grande successo riscosso anche per la casa di Babbo Natale, per gli spettacoli organizzati dall'associazione Oltre Sipario, ma anche per i Babbi Natale del Vespa Club di Fano e per tutte le attrazioni che hanno coinvolto e trasportato grandi e piccini all'interno della magica atmosfera del Natale. È una grande soddisfazione per noi avere tutti questi visitatori qui a Monbaroccio, aver fatto scoprire il Natale e a tutte queste persone che vengono anche da tutta Italia. Un ringraziamento ancora a tutti i volontari e a tutti coloro che hanno visitato i nostri mercatini e i nostri paesaggi.